Un calo dell'8% nel 2020, un rialzo del 35% nel 2021 e la previsione di un 2022 ancora in crescita nonostante la mancanza di materie prime e l'inflazione. È la situazione del mercato immobiliare in Toscana fotografata dall'osservatorio immobiliare della regione. Altro elemento che emerge è la diminuzione sul mercato rispetto ad altri periodi di appartamenti diciamo più comodi, con una stanza in più o il giardino o una terrazza. Chiaramente un effetto del dopo lockdown. Nel 2021 sono stati questi gli acquisti andati per la maggiore. E quelle tipologie di immobili in particolare hanno avuto un incremento dei prezzi sensibile, pertanto è difficile reperirle e quando si reperiscono chiaramente hanno dei prezzi che sono un pochino più elevati di quello che era la media precedente. Il problema oggi è l'aumento dei tassi. Nel 2023 come andrà? Secondo noi se l'attuale governo avrà la capacità, la forza di tenere ferme quelle che sono condizioni che in questo momento sono peggiori rispetto al 2021, probabilmente avremo una tendenza che è quella stabile su un numero di compravendite importante, perché comunque chi compra di solito deve vendere case e quindi si autoalimenta quello che è il mercato immobiliare. Il mercato è in forte espansione anche per quanto riguarda gli affetti brevi, quelli turistici, aumentati del 70% negli ultimi 5 anni. Secondo noi, spiega Gian Battista Beccarini, presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, la linea che alcuni comuni stanno prendendo di introdurre norme liberticide, anticostituzionali, che vogliono limitare il diritto del proprietario di affittare liberamente il proprio immobile, non è corretta e lineare. Il riferimento non casuale è alla norma sugli affitti brevi che è riguardato Venezia ed è oggetto di una proposta di legge che il sindaco Nardella vuol far arrivare in Parlamento anche per Firenze.